Sittago Francesco Roberti, un progetto significativo dedicato al pellegrinaggio di Santimotio a Roma. Dobbiamo lasciare memoria storica di un evento unico, siamo riusciti a farci conoscere a livello mondiale per le reliquie di Santimotio, quindi è un'occasione unica, bisogna cogliere questa occasione e fare in modo che si prosegua con dei progetti che abbiamo già in mente insieme al Sua Eccellenza il Vescovo, a Don Benito e speriamo di riuscire a cantierare queste nuove iniziative e idee per Termoli e per tutta la comunità diocesana di Termoli.